Ragazzi, buongiorno, benvenuti in questa certa data dove c'è veramente poca speranza di vita. Adesso scendiamo a fare colazione e poi si fa un po' di programma della giornata. Sto al suo mercato, andando un po' di mangiare, vediamo un po' di droga. Seppre che segue il viaggio, siamo di nuovo nel metro, ormai che per noi è familiare. Franco, che ne pensi? Speriamo che sia bello. Gianni, che ne pensi? Non ho più l'aspettativa. Ragazzi, alla fine ho deciso di cercare la mia Red Bull, oggi ho cambiato un po', siamo al mare. Che bello, ragazzi, il Mar Duputugare. Questo dovrebbe essere la strada operativa. Dato che siamo in anticipo, siamo andati all'oceano, in secondo me l'abbiamo mai visto. C'è una cosa che odio, è la sabbia. Mi domanda perché siamo? Nella sabbia. E c'è tutto il Ponte di Brooklyn che ovviamente non abbiamo ancora visto, ma spero oggi che andremo a vedere. Voglio prendere, raga, il tram quello di lì verticale, quello giallo, antico. Un attimo, io sto salvando la Medusa. Pensate che sicuramente c'è qualcuno che ha tirato fuori la Medusa dal mare. Piccola Medusa, piccola Medusa, vivi? È molto, che scappone. Sì, si sta muovendo, si sta muovendo. Si sta muovendo. Sei viva. Un sacco di merda. Scemo. Non lo prende la mamma da te. C'erano di merda. Occhio, 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 occhio. È la cosa, ha avuto presidio. Poi vi sta Mario, veramente bello. Ci sono andato dopo il clipbag, speriamo che ce lo fanno portare a casa. Spirano. Che il bambino è così. C'erano di più. Il video è lo stesso. Spirano. Spirano. Sto uno, non era tipo nella parte dove si mette in mente mano al codice. Mamma mia Quello che abbiamo visto su Youtube Praticamente lo sto vivendo qua In prima persona adesso Come sono i prossimi domani Bellissimo questo Grazie c'è il finale Questa bella di questi uffici Eccomi, c'è di tutto E di più Lì c'è tipo un sacco da box senza motivo Forse dovunque Però comunque tutti lavorano Mi chill E' veramente bello Poi vabbè con una vista del genere Minchia Usciti dalla metro Visita veramente figa Interessante Oggi altra visita Che vi mostrerò ovviamente Questa macchina azzurra Celeste Adesso siamo in una sede di un giornale Dicono che siamo un po' trash Ma adesso dobbiamo se è la verità o meno La sede per adesso Sembra interessante Questa penso sia una macchina da scrivere Veramente antica Durante roba Abbiamo finito all'interno della sede giornalistica Non dovevo fare video Qualcuno l'ho fatto Ho visto anche con che camera registrano Una panasonic di 4k Tipo di quelle che innestano sui droni Veramente veramente particolare Molto smettica come cosa Adesso siamo un po' liberi Sono stanco Stanno finemente Poi andare a vado il giro in più Vabbè a chi siamo qui Ormai voglio andare a prendere la metro E fare un paio di robe Quindi gireremo ancora un po' C'è una varietà di monster enorme Devo prendere questa Ora mi prendo questa Che non l'ho presa mai E poi mi prendo Pure questa Ma sono tellurde schifose Queste due mi prendo E adesso andiamo a prendere Guarda qua la fuori c'è un castello Sta arrivando Eccolo Stanno lasciando Stanno per entrare Do 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 Io Non so se ne qui ci possiamo stare Ma noi ci siamo Che bello Dentro il coso Dentro la roba Ma io mi sto trovando qui Si gira Questo qua tipo Potrei girare una manovella E fare partire Il tram Il tram Il tram Spero di vedere un bel panorama Aspettiamola Uno perché si vede meglio Ci ciò fa un bello Team Alarms Guarda Tiro il franamaro qui Una sale Ah perché poi lì Ci sono due corsie Guardate che bello qui su Faccio un secondo da qui Così la vedete meglio Io l'ho messo lì sostanzialmente E questa È la fine E questa invece È la macchina Lo prende di nuovo E se ne va di nuovo giù Eccoci qui A barrio alto Veramente bellissimo Ci abbiamo perso letteralmente La giornata fa La scomalazione Quando noi potevamo Potevamo andare qui Cioè sostanzialmente qui Qui c'è il castello Le cose Era il modo di scendere Vediamo giù Un mondo fantastico Da sardina a portoghese Vediamo ad accedere Ma forse non è un negozio Ma è un'esposizione Ma è tipo Guarda mi compro Una scatoretta di qualcosa Quanto? Quanto? Ragazzi 16 euro Una vaschetta di sardine Da penso un 50 euro Guarda qui E' un po' di souvenir E robe varie Volevo comprare tipo il mini tram Ragazzi una minchietta 4 euro Non te le do Monfredo Ho fatto un po' l'italiano Ho fatto fare lo sconto Fica attacca Queste sono le mostro che ho preso oggi Prima della strage Ma anche non vi racconteremo Domani le proveremo Moretti Mi hai capito il telefono Non è vero La lancia da 8 metri di altezza Ah va Il telefono buono Ma secondo te Do un rubo Ma poi due Ma poi due minghia No Franco No me si spande No me Che cosa hai fatto Come si dice Categgine di che in inglese Fino a giornata Ci vediamo domani